Io volevo togliermi insomma il sogno di una vita e fare la chiusura con Antonio Ricci Cosa bisogna dire? Farei proprio la chiusura come devi fare Sì sì, quindi? Fabio Gallina Antonio Ricci Lo Sferisterio Di Dolcedo Striscia la notizia Sì, abbia fatto un casino, però va bene così Vedevo dicendo Dolcedo, Imperia Giusto, allora la rifacciamo, la rifacciamo Scusate La rifacciamo, eh? La rifacciamo Eh? Ah, sì No, no, è la chiusura dell'intervista Tutto buono, eh? Non tagliamo assolutamente nulla Facciamo la chiusura che è il sogno di una vita per un conduttore Fabio Gallina Antonio Ricci No, 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 Fabio Gallina Ah, ok Fabio Gallina Antonio Ricci Chiusura Fabio Gallina Antonio Ricci Lo Sferisterio Di Dolcedo Striscia la notizia, non lo diciamo? No, alla fine Alla fine, vabbè Dai, che ce la faremo? Terza, terza Fabio Gallina Antonio Ricci Lo Sferisterio Di Dolcedo Striscia la notizia Imperia Ce l'abbiamo fatta! Brava, brava, brava Grazie Grazie